Durante il weekend di ogni istante Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono concessi una fuga romantica a Merano in un hotel straordinario e proprio in questa location così romantica che Ignazio ha chiesto la mano alla sua bella Ceciu che ovviamente dopo 5 anni di stupendo amore non poteva che rispondere di sì e infatti potete vedere anche sui loro social, sia sui social di Ignazio che di Cecilia un post dove si vede tutta l'atmosfera, le candele, i cuori, la mano di Cecilia con un bellissimo anello insomma non perdetevelo ma dopo tutte le reazioni di tutti gli amici ovviamente è arrivata anche la reazione di Belen che ha detto mi raccomando ragazzi però di non farlo a luglio perché a luglio si crepa di caldo e che gli piacerebbe tanto fare ovviamente da testimone e di lanciare i petali insomma a voi piace questa coppia? Siete felici? Noi di Donna Glamour non possiamo altro che fare le congratulazioni complimenti ragazzi e tanti auguri invece per voi se non volete perdervi nessun gossip non vi resta che cliccare su donnaglamour.it vi aspettiamo Grazie a tutti